Dato che non ti sei innamorata e non vivremo insieme per sempre, ho ripreso a fare lavatrici a modo mio. Un'ora a 40 gradi con un goccio di un detersivo qualsiasi, tutto insieme, maglie, mutande, asciugamani, camicie, lezzuola, strofinacci, calcini. Ma se ti fossi innamorata e fossi rimasta a vivere per sempre qui con me, io per sempre con gioia avrei fatto lavatrici a modo tuo. Programmi diversi, detersivi scelti, suddivisioni di tipi di indumento, l'amoniaca diluita, l'amore. Bella! Bravo!